Si è tornato in aula ed è stato il giorno dei grandi accusatori, il liquidatore della vecchia banca Giuseppe Santoni, l'ispettore di Banca Italia Emanuele Catti e il tenente colonnello della finanza Peppino Abruzzese. È infatti entrato nel vivo il processo per uno dei filoni principali dell'inchiesta sul crack di Banca Etruria, quello che vede sul banco degli imputati gli ex vertici dell'Istituto di Credito, Luca Bronchi, Giuseppe Fornasari e David Canestri, accusati di falso improspetto. Secondo l'accusa, infatti, la banca inviò a Consob una relazione non aderente alla realtà dei fatti in una fase in cui l'Istituto era già in difficoltà. La successiva collocazione delle obbligazioni subordinate avrebbe così messo a rischio i risparmiatori come poi avvenuto nel novembre 2015, quando i famigerati Bond diventarono carta straccia. È uno dei filoni per capire cos'è che ha stravolto Arezzo dal 2015, quindi c'è bisogno che ci sia chiarezza su tutto, dal collocamento all'emissione ai prestiti in conflitto di interessi. Io credo che Arezzo si aspetti e abbia diritto a una chiarezza su tal vicenda, quale essa sia, ma deve essere chiara la situazione. In aula sono così sfilati i testi dell'accusa. Il primo ad essere stato ascoltato è stato il colonnello della Guardia di Finanza Peppina Bruzzese, che ha condotto le indagini sul crack sin dal principio. È stato poi il turno di un altro testimone chiave del processo, il commissario liquidatore Giuseppe Santoni, indicato da Via Nazionale di portare all'insolvenza della vecchia banca Etruria dopo il 22 novembre 2015. Sono ragioni che vanno inquadrate anche nel periodo, perché era un periodo, insomma, si veniva fuori da una crisi economica e finanziaria notevole, che però altrove è stata affrontata diversamente. Nel caso della banca dell'Etruria ha pesato molto il fortissimo radicamento territoriale, che in anni, nei decenni precedenti, era stato un punto di forza e di crescita della banca e che invece, nel contesto radicalmente mutato della crisi, è stato un fattore di straordinaria debolezza. Ultimo ad essere ascoltato è stato l'ispettore di Banca Italia Emanuele Gatti, arrivato in Etruria nel settembre 2013 per un'ispezione destinata poi a durare circa un anno e che fece venire a galla decine di milioni di crediti deteriorati.